Al tavolo rotondo alla discussione sono stati presenti tutti i comuni limitrofi e adecenti al territorio dell'Università degli Studi di Salerno. Quanto è importante appunto la relazione tra i comuni, istituzioni ed università? Guardi, non è che è importante, è vitale. Noi non abbiamo alternative a quelle di un confronto continuo. Se qui si studia, si ricerca, si propongono nuove soluzioni, i primi utilizzatori sono ovviamente i nostri studenti, ma i primi utilizzatori insieme agli studenti è il nostro territorio. Noi non possiamo formare persone e poi non immaginare che il territorio sia capace di accoglierli. Lavorando insieme con gli imprenditori, con i comuni, con le istituzioni possiamo creare quelle condizioni che fanno sì che il primo campus del mezzogiorno, la prima università del sud Italia, non produca emigranti ma produca forze per il nostro territorio. L'ADISU ha tra i suoi compiti istituzionali quello di offrire servizi agli studenti e garantire il diritto allo studio. In questo contesto si innesca prepotentemente la questione trasporti che questa mattina è affrontata grazie alla firma di un protocollo d'intesa. Sì, come dicevo prima in premessa, durante l'incontro, tra i compiti istituzionali dell'ADISU rientra appunto quello di garantire il diritto allo studio. Il Consiglio d'amministrazione che presiedo già da tempo aveva preso in considerazione la possibilità di essere vicino anche dal punto di vista economico attraverso l'erogazione di un contributo. All'inizio di un anno accademico necessariamente si doveva provvedere. Abbiamo colto con seria la preoccupazione del Rettore per cercare di risolvere quantomeno in parte il problema del trasporto tra i campus di Baronissi e Fisciano oltre che da e verso l'università rispetto alla provincia. Quindi mi è sembrato e ci è sembrato utile contribuire economicamente a garantire anche con il servizio di trasporto pubblico locale un servizio a favore degli studenti ricordandoci che sono il motore della nostra università ed è proprio per questo che avendo già vissuto da studente un'esperienza del genere ho colto veramente con tanta interesse e disponibilità la richiesta. In un momento particolarmente difficile per la questione mobilità e trasporti questa mattina è un atto importante con la firma del protocollo d'intesa tra provincia, università e ADISU. Non è un momento difficile per i trasporti, è un momento difficile per la provincia di Salerno e per le province più in generale immaginate che la nostra provincia si è vista tagliare da 50 milioni di euro le risorse che aveva disponibili a 7 noi abbiamo 7 milioni di euro disponibili. Era un'idea quella di partecipare con l'università a costruire un nuovo sistema dei trasporti finalizzati ad alleviare i sacrifici che tanti studenti dell'iterland salernitano e soprattutto di quelle comunità poste ai margini della provincia subivano ogni giorno per regarsi all'università e per adempiere a ciò che è un diritto consagrato nella nostra carta costituzionale, quale è il diritto allo studio. Abbiamo trovato le risorse, grazie anche all'impegno per la verità dell'università e dell'ente di diritto allo studio abbiamo fatto un primo importante passo per garantire alle comunità salernitane per davvero il diritto allo studio.